Benvenuti nel nostro canale, importante per noi avere il tuo supporto, prima di iniziare il video premi il pulsante iscriviti, lasciami un mi piace, e attiva la campanella per non perderti le prossime novità. Pier Silvio Berlusconi e la vacanza da papà e nonno, le rare foto con tutti i figli e la nipotina. Calvi, Corsica, Francia, questa è la meta che Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin hanno scelto per trascorrere insieme a tutta la loro famiglia le vacanze estive. Le foto catturate dal settimanale che sono particolarmente rare perché oltre a Pier Silvio, Silvia e ai figli, Sofia Valentina e Lorenzo Mattia, ci sono anche Lucrezia Vittoria, 33 anni, la prima figlia di Pier Silvio e la sua bambina, Olivia di due anni. L'unico assente, del quadretto familiare, è il marito di Lucrezia, Josh, che si trovava all'estero per lavoro. La notizia della nascita di Olivia è rimasta segreta per ben otto mesi, la piccola è nata ad aprile 2021, ma solo a dicembre, tramite il settimanale Chi. Abbiamo scoperto che Pier Silvio, a 51 anni, era diventato nonno. Lucrezia Berlusconi è nata dalla relazione di Pier Silvio con la modella Emanuela Mossida. Lucrezia Vittoria per anni ha vissuto e studiato negli Stati Uniti, ma adesso con il marito vive in Italia. Su di loro non sono noti altri dettagli. Parlando di questi giorni così rari, Berlusconi li ha definiti, ad alcuni suoi collaboratori, un paradiso, anche perché sono state le prime vacanze estive in compagnia della sua nipotina Olivia. A quanto raccontano le persone vicine a Pier Silvio, lui si sarebbe quasi commosso vedendo l'amore che Silvia, la sua compagna, manifesta verso la piccola. Non è un caso se hanno scelto come meta la Corsica e in particolare Calvi. È un borgo molto amato da Pier Silvio che ogni anno cerca di esplorare scoprendo nuove spiagge e calette. Le giornate sono trascorse tranquille tra mare e remate in sup, uno sport particolarmente amato da Pier Silvio. Le serate, invece, le hanno passate a bordo di una barca, chiacchierando e vivendo al massimo questa prima estate tutti insieme. Questa vacanza ha rappresentato un momento prezioso per Pier Silvio, che ha potuto godere appieno della sua famiglia allargata. La presenza di Olivia, la sua nipotina, ha aggiunto un tocco speciale a questi giorni di relax e ha consolidato i legami affettivi tra i membri della famiglia Berlusconi. Inoltre, la scelta di Calvi, un luogo che Pier Silvio ama esplorare ogni anno, ha aggiunto un'atmosfera magica a questa vacanza estiva. Le spiagge e le calette della Corsica hanno offerto uno sfondo incantevole per queste giornate di relax e divertimento. Queste rare foto di Pier Silvio Berlusconi e della sua famiglia ci mostrano un lato più intimo e personale di uno degli uomini più influenti d'Italia. Sono immagini che catturano momenti preziosi di gioia familiare e di affetto, dimostrando che, nonostante gli impegni professionali, la famiglia rimane al centro della vita di Pier Silvio. La vacanza estiva in Corsica è stata un'occasione speciale per creare ricordi indelebili e per rafforzare i legami familiari. Pier Silvio Berlusconi, oltre a essere un leader aziendale di successo, è anche un padre amorevole e un nonno orgoglioso. E queste foto sono la testimonianza di questi ruoli importanti nella sua vita. Durante queste vacanze, Pier Silvio Berlusconi ha potuto godere di un momento di pausa dai suoi impegni professionali e politici. La sua carriera nell'azienda di famiglia, Mediaset, lo ha portato ad assumere ruoli di grande responsabilità. Ma questi giorni in Corsica sono stati un'opportunità per lui di staccare la spina e riconnettersi con ciò che è veramente importante, la sua famiglia. L'arrivo di Olivia, la nipotina, ha sicuramente aggiunto una dimensione speciale a questa vacanza. La sua nascita ha portato gioia e felicità nella vita di Pier Silvio. E vedere l'affetto e l'attenzione di Silvia Toffanin verso la piccola ha commosso profondamente il neononno. Pier Silvio Berlusconi è noto per il suo amore per gli sport acquatici, e la sua passione per il paddleboarding, sup è evidente nelle foto di queste vacanze. Questo sport non solo offre un'opportunità per l'esercizio fisico ma anche un momento di tranquillità e riflessione mentre si scorrono le acque cristalline della Corsica. Le serate trascorse a bordo di una barca hanno fornito un'atmosfera rilassante e romantica per Pier Silvio e Silvia, permettendo loro di condividere momenti preziosi lontano dal trambusto della vita quotidiana. Questa vacanza è stata un momento di unione familiare, un'opportunità per creare ricordi speciali insieme e per apprezzare i legami affettivi che li uniscono. Pier Silvio Berlusconi, oltre ai suoi successi professionali, sa quanto sia importante nutrire e coltivare il suo rapporto con la sua famiglia. Le rare foto catturate durante queste vacanze offrono uno sguardo intimo nella vita di Pier Silvio Berlusconi come padre, nonno e partner affettuoso. Mostrano un uomo che sa apprezzare i momenti di tranquillità e riflessione, oltre alla gioia di trascorrere del tempo con coloro che ama di più. In conclusione, queste foto ci ricordano l'importanza della famiglia e dell'amore incondizionato che ci unisce. Sia nella sua vita professionale che in quella personale, Pier Silvio Berlusconi sa bilanciare con grazia e dedizione, dimostrando che la famiglia è sempre al centro del suo cuore.